Tutto c'è di cui ho bisogno e ti ha ne ho possesso! Salve Presidentissimo, scusi se la... Mi ha portato... Ma porco due, ma sei matta! Ti ho fatto paura... Porco dici! Scusa amore, ho sentito questo odore di pizza, volevo un pezzettino di prego, fammi mangiare qualcosa, sto morendo! Ah no, c'era un pezzetto! Scusa amore, pensavo mi avessi sentito! Ma come faccio? Ma non senti che sono le guffie al massimo? Ma che so! Tieni, posso mangiare questa? Questo qua è quello che dicevi comunque con lo strawberry, il latte con... No, 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 no! Come no? È questo? Quello rosa? Ah, questa... Sì, tu dici che è lo stesso dell'inizio video? Sì, è questo... Allora io parlavo di un altro drink... Oddio, perché ha fatto quella porca? Non era obbligatorio farla! Perché l'ha fatto? Non era obbligatorio! Cioè, ma se ne mente! Ho capito, ma che... Comunque prima ti dicevo e hai saltato. Con la doppia coppia o il tris gioca anche una quinta carta, così ne cambi una gratis. Sì, però non posso, perché adesso c'ho la carta che se gioco meno di tre carte mi dà più venti, capito? Grazie. L'ho sentito comunque, grazie piccolo. Ma se anche non faccio questa cosa che mi avete detto... Cosa vi succede a voi? Cosa vi può succedere? Se io non faccio quello che dite voi nei messaggiti sulla scelta del TTS... Cosa potrà mai succedervi?! Grazie, comunque, del consiglio, eh! Gomma rotta! Sono diventati praticamente la Ferrari! Mamma mia! No, dai! Cosa li contraddistingue? Non lo so, in realtà, ma... Cioè, nel senso... Vedi? Ma vaffanculo, chat! Che coglioni! Non lo so, non vorrei deriderlo. È che voi non avete visto quando mi ha presentato questa cosa super serio in macchina. No, scusa, occhio! Occhio che la rompi, eh, non la toccare. Cos'è, amore? No, no, scusami, ehm... Attrezzatura professionale. No, ci sei rimasto... No, amore! No, no, scusa, mi amore! No, no... Lei è eva di donna? No, no! Non volevo offenderti! No, no! No, no! Sono 1350 tanja, voi li premete tutti! C'è uno che fa così... Tutto il giù... E da quanto ti occupi di questo settore? Da un annetto, perché prima mi occupavo di licensing, quindi un po' più etti, ma non mi piaceva, quindi ho cambiato. Sempre in consulenza. Livello di istruzione? Ho la magistrale di economia, quindi... Quello che hai studiato è inerente a quello che fai adesso? Sì, ma non troppo, nel senso... Potevo fermarmi alla triennale. Ti sei soddisfatto di quello che fai? Sì, dai, per ora sì. Pensi che abbia un buon impatto sul mondo? Sì. Qualcuno deve... Si dice bim bum bam? Ma fai, dai, buttiamole giù! Questa si dice? Uno, due, tre... Buttiamole giù! Ah, forse si dice carta forbice sasso! Si dice carta forbice sasso! No, buttia! No, amore, si dice carta forbice sasso! Amore, qua fai i danni, sei tutta un castonare! Non sai cosa fai vedere le mie calzine quelle che... No, amore, no, non ci hanno neanche pagato questa cosa! Regà, venti sabbe per i calzini, Federica! Carta forbice sasso! Carta forbice sasso! No, vi confondo! Carta forbice sasso! Carta forbice sasso! Uno, zero! Carta forbice sasso! Uno, uno! Carta forbice sasso! No, che ho detto, fai anche il gesto! Carta forbice sasso! Carta forbice sasso! Carta forbice sasso! Due, uno! Carta forbice sasso! Carta forbice sasso! Ah, non ha vinto! Uno, due! Oddio! non voglio fare un server come si può definire creepypasta e sei assoluto assoluto ok è il momento gaming sì è il momento gaming videogiochi per ogni gusto ciao ciao ci sta giocando ahhh 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 utilizzano youtube ma sono la maggior parte della popolazione italiana tra i 7 e i 50 anni sono la maggior parte della popolazione italiana e utilizzano tantissimo youtube più della tv ma che dite si tiktok vabbè però anche youtube ci sono gli shorts su youtube la sera ci sono 10 20 milioni di spettatori davanti alla tv tutti i giorni non so i numeri ma sono 10 100 per rispetto a twitch ma che c'entra adesso twitch ragazzi secondo me alla fine di questa live questa bottiglia sparirà dentro il mio culo ve lo dico questa bottiglia a fine live sparisce nel mio culo se continuate così e niente ragazzi oggi stiamo mollati davvero eeeh no però questi no questi non li prendiamo eh no 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 Non mettetemi nel best hop per favore No dai È long Buonasera signore e signori E bentornati in un nuovo video dei simuletters Questa volta andremo a Controllare altri Monstrix Ciao alla prossima Vai Adesso hai messo le risate? Eh si È difficile No bello bello bravo Ciao azianta Questo che cos'è? Cosa o? Che è? Madonna mica ogni volta ci ca-